buongiorno oggi siamo a caslano per mostrarvi questo appartamento di due locali e mezzo siamo il primo piano e siamo serviti da ascensore entriamo all'interno dell'appartamento subito all'entrata siamo forniti di videocitofono e lungo il corridoio siamo già accolti da un grande armadio muro di fronte a noi immediatamente abbiamo il bagno il bagno predisposto di box doccia bc vide mobile lavabo e un grande mobile specchiera ora ci apriamo sulla zona giorno una zona giorno molto illuminata grazie a queste grandi vetrate prima però vi mostro la camera da letto questo appartamento viene già fornito completamente arredato una camera da letto compresa già di tutti i mobili letto comodini scaffale e per terminare un grande armadio ora ci dirigiamo verso la cucina la cucina è stata sapientemente strutturata tant'è che è compresa di tutto nel dettaglio abbiamo frigorifero con congelatore piano cottura in vetro ceramica e anche una comoda lavastoviglie come potete vedere anche nel soggiorno siamo già compresi di tutto l'arredamento necessario e disponiamo di questo grazioso e comodo terrazzo che percorre su ambo i lati l'appartamento l'appartamento è circa di 50 metri quadrati e il terrazzo di 25 metri quadrati e abbiamo una piacevole e tranquilla vista aperta vi ricordo ci troviamo a caslano a due minuti a piedi abbiamo mezzi di trasporto negozi alimentari servizi e in pochi minuti di automobile accediamo anche agli imbocchi stradali questo appartamento è disponibile fin da subito a disposizione dell'appartamento una cantina e posteggi se siete interessati a questo appartamento contattateci ti affitto